bene ragazzi ciao a tutti bentornati in questa in questa nuova live oggi siamo di nuovo insieme ed andiamo ad analizzare quella che l'attuale situazione facciamo una specie di live ma ragazzi eh per tutto il macello che è successo in questi giorni intanto eh fatemi sapere insomma se eh si sente eh tutto il resto eh ditemi insomma se insomma vedete le le immagini sentite l'audio eccetera sono da postazione mobile e quindi eh ovviamente insomma un po' tutto alla alla rinfusa intanto ciao a tutti ecco che arrivano i primi insomma ciao ragazzi eh che giornate queste giornate qui eh veramente allora mh già vi accenno che secondo me oggi è stata un giornata dove abbiamo toccato un bel livello accettabile secondo me eh per il la fa questa fase di breve eh però andremo oggi a rispondere un po' di cosette già ieri vi ho dato una serie di indizi sul video ehm allora intanto saluto come sempre tutti eh leggo leggo anche tutti i commenti ragazzi di tutti quanti insomma eh benvenuti benvenuti ciao eh insomma è un momento estremamente delicato questo qui eh ragazzi insomma un super crash ehm e ci sta ci sta devo essere sincero ce lo aspettavamo forse non così violento no perché comunque i prezzi alla fine sono andati nella direzione dove dovevano andare però che violenza ragazzi e forse non è neanche finita diciamo questa fase quindi bisognerà un po' poi e vedere in effetti tante tante altre cose per capire insomma se eh questa fase potrebbe aver toccato un livello accettabile o meno quindi eh un po' eh c'è da c'è da ragionare i bear market sono più interessanti sì allora i bear market sono stra interessanti rispetto ai bull ragazzi perché insegnano tantissimo intanto insegnano a mettere i piedi per terra e e insegnano a evitare tantissime sbruffonerie no? Eh degli investitori quella problema di ecogentrismo che tutti gli investitori abbiamo eh e insegna veramente tanto da questo punto di vista eh diciotto K con un BTC mh vediamo vediamo se è fattibile più tardi alla eh dopo insomma la parte di sede di questa live andremo anche a vedere i i livello ragazzi ne ho parlato ieri in una super live che abbiamo fatto in Academy due ore di live insomma abbiamo parlato un pochettino più diciamo io lì mi sbottono di più perché chiaramente ragazzi non è pubblica e quindi ehm è un po' più intima no? Eh insomma è riservata. Eh allora potrebbe essere questa l'apertura del mensile che va a testare i tre i trenta per poi andare a chiusura dell'annuale anticipando a lui sì eh l'inizio del ciclo mensile esattamente sì potrebbe essere questo è una eh cosa che è assolutamente possibile ragazzi proprio perché stavamo attendendo questa chiusura del ciclo mensile e mh in questa fase potrebbe averlo fatto è chiaro che siamo molto bassi capivi quindi insomma qui c'è da ragionare oggi vedremo insieme con questo cash potrebbe finire l'annuale prima previsto no a livello di tempo sì a livello di prezzi cioè nel senso che eh i prezzi potrebbero aver toccato un livello tale per cui anche nei prossimi due mesi che sono quelli atti a finire l'annuale eh potrebbe semplicemente oscillare in barra di congestione come è fatto nell'ultima volta però eh è un po' prematuro vedremo che questa cosa diciamo non 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 è visibile in questo momento anzi in questo momento non c'è assolutamente niente di che ci faccia sperare in questa cosa finalmente non si parla più di farm token LP e cose inutili e beh Luca eh sicuramente ci sarà una presa di coscienza di questi giochi eh e del concetto che comunque il eh rendimento non si va a immaginare semplicemente creando giochini di sostenibilità anche lo stesso fallimento della progetto Luna ha mh decretato in maniera molto sostanziale come il valore non sia imputabile al meccanismo sottostante ma piuttosto al far funzionare tutti gli elementi ben congegnati ben pesati insieme di cui sicuramente l'elemento principale fondamentale è proprio quello del team e del non eccedere i livelli di rischio un po' la questione che anche le vecchie banche si sono ritrovati ad affrontare tantissimi anni fa ragazzi quindi se eh le stesse banche poi non hanno eh un team che lavora in un certo modo non hanno le spalle coperte da qualcun altro e non si coprano tra di loro perché poi alla fine le banche sono riusciti a sostenersi poi così e finiva male anche per loro la stessa cosa questi progetti quindi si sposterà secondo me nei prossimi anni verso una maggiore consapevolezza purtroppo non sono così sicuro perché eh la memoria è molto corta anche degli investitori e eh si c'è dimenticati nel duemiladiciotto alla prima bull run figuriamoci secondo me anche questa sarà così e ritorneremo a con duemila scam come magari no nella prossima bull run che però ragazzi non è così semplice eh ciao Mauro domani ti aspetti stantacinque punti basi di razzo della fed SP nasa che li guardiamo come sono messi allora sì certo guardiamo tutto oggi eh ciao e mi aspetto che la politica monetaria che è la vera 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 eh notizia l'unica vera notizia sia aggressiva violentissima nei confronti della inflazione perché ehm eh questa cosa eh si è capita man mano cioè loro io all'inizio pensavo che la banca eh volesse un'infrazione controllata sicuramente è così ragazzi ma l'infrazione attuale non la vogliono e questo non la vogliono e non la vogliono non la vogliono questo significa che ehm gli è scappato di mano il cerino come sempre e mh e ridurranno la liquidità fino al punto tale che o incomincia a incrementare a dismisura il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti oppure scende l'infrazione e per farlo manderanno anche a recessione l'intero sistema economico eh questo io ne sono convinto anche per una questione politica cioè il fatto che il presidente degli Stati Uniti è stato letto da poco quindi per i cicli politici classici mh allo ehm interessa di più mandare recessione all'economia nella prima parte del mandato e nell'ultima invece a far vedere chissà cosa eh questo ragazzi andate ve lo studiate non facciamo politica su queste cose ma eh i cicli politici di marketing politico sono famosissimi ne ho già parlato eh interessante la materia andate a studiare magari facciamo un video su questa cosa ok se può interessare dopo il collasso di terra la gente è entrata in USDD la memoria è veramente cortissima diciamo ora esattamente così però USDD è un po' diversa come struttura eh è anche vero comunque altre stablecoin semi algoritmi che molto collateralizzate restano in piedi ce ne sono tante dai per esempio è collateralizzata eh insomma quelle collateralizzate stanno in piedi il problema è che non si va a risolvere il vero problema poi della finanza decentralizzata cioè creare leva l'effetto leva senza eh cioè collateralizzando al cento per cento siamo eh come nel 1950 quando eravamo legati al gold standard e e quindi eh punto è a capo no? Ok ragazzi ok si può creare un bellissimo ambiente ma non certamente eh può sopperire poi alla finanza centralizzata quindi il problema è sempre lì non si è sbrogliata la matassa questo è il discorso al di là di tutto il mercato in questo momento sta attaccando in maniera molto forte i mercati e le cripto ehm e questo ne dobbiamo prendere atto ragazzi perché anche e lo vedremo anche oggi anzi vediamolo subito anche eh il il lo spread fra Nasdaq e BTC e a favore di Nasdaq questo indica che ok la correlazione in termini di movimento ma eh le cripto nelle ultime settimane e mezzo hanno sono proprio andate giù pesante ragazzi e questo insomma dovremmo andarno a parlare allora quali i testi politici allora guarda scrivi marketing politico io l'ho studiato all'università non mi ricordo bene il testo comunque un testo dei di un premio Nobel nel del marketing eh ed è famosissimo quindi lo troverai eh tranquillamente eh la materia e il marketing politico è anche un paracafetto quindi niente di di rilevante quando finirà il con in crollo ne parliamo oggi cerchiamo di parlare di mettere il punto sulla situazione eh ciao Mauro per domande dubbi tecnici sul corso dobbiamo entrare in Academy sì eh oppure fai delle 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 mail però eh poi devi parlare con con l'assistenza per entrare a parlare con me devi entrare in Academy ma è gratis c'hai tre mesi gratis quindi entra anche perché che fai se hai già metà del corso entra in Academy no così ti metti sotto ti metti ragazzi poi perdete troppo tempo e non ha senso eh guarda i token cell Mauro allora sì il token cell lo andiamo a guardare per la questione di Celsius però Celsius è è un bel momento questo ragazzi perché intanto parliamoci chiaro ve lo avevo detto un mese fa giravano le voci non era difficile da sapere che Celsius fosse la prima a poter avere problemi ehm però mi è piaciuto molto l'intervento di Nexo perché ecco questo gioco di squadra ovviamente a favore di Nexo perché si compra i crediti per avere maggiore no utilità e anche per dimostrare la sua stabilità quindi è un doppio tocchettino questo però ehm insomma è molto interessante il discorso se una DeFi come Celsius una DeFi scusate come Celsius riesce a sopravvivere perché se riesce a sopravvivere è anche la prima volta che assistiamo a una cosa del genere perché comunque Celsius era abbastanza grande sì si sapeva a speculativa avevano fatto investimenti un pochettino fuori dalle righe troppo ehm forse concentrati in un unico eh punto cioè la questione Ethereum che ragazzi a questione Ethereum è pratico da due mesi e il grave rischio di tutto era lì e per questo che è lì no? Eh e ancora non è finito niente ragazzi anzi eh chi eh di voi qui in Academy sa anche quello che abbiamo detto ieri come target price possibili ne vediamo non delle belle delle bruttissime va bene quindi eh allora bisogna stare a vedere queste cose però se riescono a mantenersi facendo gioco di squadra le sefai sarebbe la prima volta che riescono a sostenersi in un bear market l'un l'altro e questo che raccorsione ragazzi è inutile parliamoci chiaro nel momento in cui eh una sefai eh un exchange va a cresciare è un discorso nel momento in cui noi dobbiamo far cresciare dieci sefai unite a grappolo unite a rete c'è una bella differenza va bene questo significa che se fanno gioco di squadra lo so che è un po' il mondo centralizzato quindi in sostanza identico alle banche eh però fanno gioco di squadra tra di loro è interessante perché potrebbe mh dare proprio un freno totale quindi o poi la si ragiona a livello di speculazione totale quindi con atteggiamenti un po' fuori fuori zona eh cioè nel fatto che proprio si voglia attaccare le criptovalute ragazzi questo è il discorso noi qui dobbiamo comprendere questo allora se questo è un bear market insomma ragioniamo sulle cose giuste è un bear market difficile che che sarebbe stato un bear market complicato da sbrogliare per via del fatto che andavamo incontro a un rialzo dei tassi ne abbiamo parlato probabilmente io ho un dubbio su questa cosa oggi vi faccio un piccolo spoiler cioè il dubbio è che questo bear market sarà più lungo degli altri ehm non lo so ancora non ho dati quindi sono opinioni ne parliamo poi nel corso dei prossimi mesi però un po' il dubbio mi è venuto per tanti motivi eh però ragazzi questo è un bear market difficile duro e anche importantissimo per le cripto perché le cripto passano se passano queste quelle che passano questo bear market passeranno in una fase completamente diversa perché lì precedenti quelli del duemiladiciotto ragazzi era un bear market che riguardava per lo più bitcoin ed ethereum in poca parte il resto erano praticamente shitcoin e inutili e sparite quasi tutte e poi sono rimaste quelle le standard e più gli exchange token quindi questo bear market invece avviene dopo una presa di coscienza per l'intero pianeta dell'esistenza di questo settore quindi chi resiste a una cosa del genere se resistono eh può avere grandi aspettative poi un domani anche perché probabilmente ci sarà dentro regolamentazione e tutto il resto però il problema è proprio lì cioè se è un semplice bear market tutto è ok cioè fa piazza pulita elimina i fantaguro i psicopatici scusate il termine i le persone che scammano quelli che si inventano investitori dall'oggio al domani e hanno letto la copertina di tre libri quelli che sono nati ieri e parlano di critto quelli che parlano di altre cose fa piazza pulita elimina corregge anche i nostri errori i nostri stessi errori ragazzi di tutti gli investitori perché il bear market ci riposiziona no è come una lenta sulla strada giusta quindi è tutto mindset bellissimo da questo punto di vista valutarlo brutto per le perdite di chi non è riuscito magari no a gestire queste fasi vi vi spiega anche l'importanza dell'essere un pochino trader quello che vi dico da anni non trading che che fate lì o intraday e roba del genere che non vi serve a niente e se non vi volete proprio specializzare in quello ma i trader giusti quelli che seguono il trend anche nel medio lungo termine perché nel medio lungo termine non significa sempre a buscare come si dice da me al sud quindi prendersi schiaffi in faccia costantemente durante il bear market non è che siete costretti cioè potete anche vendere e ricomprare ragazzi ieri ho risposto a un commento bellissimo dice questo mercato è il futuro del mondo bla 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 ma non c'è dubbio e quando arriverà il nuovo trend rialzista sapete benissimo che io sarò il primo che entrerò a mani basse ovunque questo è il discorso cioè l'importanza dell'essere un minimo consapevole il trading ragazzi è prima dell'essere investitore quindi non è che il trading lo dovete fare come mettervi lì cercando di fare 100 euro al giorno non è questo è imparare le regole del gioco e prima si inizia da lì imparate le regole del gioco il trend seguire mercati il senso dei delle oscillazioni di prezzo l'analisi tecnica i cicli e poi imparate a essere investitori gestione del portafoglio investimenti oculare scegliere in maniera oculata le cripto dove investire o le stock dove investire cioè sono degli step questi qui è che fate gli investitori senza avere mai idea di come si segue un trend qual è il mindset giusto per entrare nel mercato cioè vi devasta il mercato ragazzi al primo bear market vi fa quello che sta facendo adesso a tutti e questo è il problema di fondo non è proprio sbagliato questo concetto non si saltano gli step in questo mondo ragazzi bisogna ragionare su quello che si fa alcuni magari si specializzano vedono il trading solo come questi che stiamo qui a fare 2000 operazioni io ne faccio una al mese due al mese da un anno ragazzi va bene così poi ho le persone adesso di spread che sono iper è proprio trader trading puro però quella è una cosa che si vuole fare la potete fare o no mentre imparare a seguire un trend a leggere un grafico quello non potete non farlo se volete investire cioè non è che se andate a warren buffett quello non sa l'analisi tecnica non sa leggere un grafico ragazzi cioè non vi pensate queste cose quindi è fondamentale che insomma si ci sia la questa possibilità appunto di andare a comprendere se questo bear market è semplice un bear market oppure un attacco alle cripto perché se è un attacco alle cripto ci mettono proprio a terra ragazzi ve lo dico proprio chiaro allora a me non sembra che sia così perché i quando sono stato a miami quello che secondo me è il più grande valore ci siamo portati a miami in termini di cripto non noi e in termini di altre esperienze sociali intendo è proprio il fatto che gli states gli stati uniti sono pro bitcoin allora questo a me è sembrato evidente lì oggi kraken dice che lightning è dentro kraken ragazzi quindi è un grande passo avanti kraken è un exchange che lavora molto stati uniti lavora molto anche business stati uniti perché dalla possibilità di aprire account business per le istituzioni quindi kraken va visto ha attivato il lightning quindi inizia a spostare bitcoin a zero questo è interessante comprendere come questi tipi di evoluzione tecnologica sulla re delle criptovalute siano ancora in in angel se ci fosse un attacco all'intero sistema cripto ci spazzano via ragazzi ci spazzano via quindi solo esiste solo bitcoin che deve capire cosa fare il resto verrà cancellato quindi se c'è una volontà politica di distruggere questo mercato non se ne salva niente non si salva niente va bene ragazzi questo ve lo dico in maniera proprio sincera con il cuore in mano da persona che ama le cripto e che le adora in prince quindi poi da lì bisogna rimetterli in remi in barca cercare di capire come fare allora poi ci insomma si ritorna alle origini no allora a quel punto però se non vogliono la decentralizzazione della finanza ragazzi i protocolli di defy possono dire ciao ciao con la come la canzone con le mani ciao ciao perché non non se ne salva uno e quelli che si salvano gli fanno la regolamentazione e li chiudono comunque le stable coin algoritmi che stessa cosa dipende tutto se è un problema di mercato allora è corretto e siamo sulla strada che pulirà tutto come vi ho detto e andremo verso la direzione giusta chi si salva sarà fortissimo e ci sarà sviluppo per tutti questi mercati nel prossimi anni probabilmente ci vorrà più tempo per questo supermarket però ci sarà sviluppo se invece c'è una volontà politica di affossare questo mondo non ce n'è ok lì non ci salviamo ragazzi perché non c'è una soluzione a questa cosa qui se non bitcoin che resiste poi si vede ora la questione a me sembra che non sia una volontà politica ma un semplice bel market vi dico francamente però insomma tiriamo su allora sicuramente non sappiamo non lo troviamo scritto nessuna parte questa cosa qua però a me da quello che sembra anche gli stati uniti siano molto crypto friendly non mi pare abbiano questo atteggiamento insomma insomma e quindi io direi che e insomma possiamo decidere che questo è un semplice bel market vuol dire di fare di fare così va bene ma perché pensi che è la volontà politica hai dei dati allora perché perché questo tipo di eh di momento storico eh in questo tipo di momento storico gli stati uniti in particolar modo hanno una ha avuto un cambio di rotta e fortissimo durissimo rispetto al passato non erano così prima eh vabbè c'era il biondo prima eccetera quindi era insomma sembrava il sindaco di un paese e quindi loro avevano perso la questione imperialista però da quando c'è questo qui ragazzi che poi in sostanza è come il precedente eh hanno dimostrato proprio un taglio nettissimo con le politiche passate hanno distrutto i rapporti commerciali con l'Asia ha distrutto una pace di 50 anni con la Russia ehm eh cioè ha devastato diciamo la politica monetaria che era prima ehm iniziato a fare guerriglie cioè è è una è una vecchia struttura degli degli USA quindi il problema è la vogliono o no perché il processo di adozione USA delle cripto è nato prima di questo cambio politico non è nato in questo cambio politico e quindi un po' il dubbio viene eh che eh potrebbe essere proprio voluta e la distruzione proprio di questo perché c'è anche un discorso ragazzi lo dico proprio chiaro di ricreare un'eggemonia pesantissima dovuta eh anche alla moneta e il fatto che il dollaro sia diventato molto forte anche nei confronti dell'euro ve la dice lunga su questa cosa ragazzi il dollaro eh insomma con le emissioni di liquidità negli ultimi anni doveva svalutarsi bla 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 eppure non è così abbiamo visto il grafico anzi ve lo rimostro abbiamo visto il grafico su il grafico della della forza diciamo del dollaro e che insomma col cavolo che è sceso cioè è è stato estremamente molto cioè molto forte negli ultimi anni quindi c'è un po' una volontà che spinge a ragionare se effettivamente ecco qui siamo nei massimi storici vedete su le altre valute eh degli degli ultimi non so vent'anni vent'anni sì più o meno ok quindi quando anche qui quando si dice eh il dollaro carta straccia sì assolutamente però eh abbiamo toccato proprio nella giornata di oggi i massimi che eh il mercato faceva vent' anni fa sul dollaro quindi vedete questo è il discorso ora il trend è iper rialzista però che stiamo facendo questo maxiciclo e siamo in fase finale quindi dovrebbe essere questo è un ciclo da cinquemila giorni ragazzi eh giusto è quasi sei mila giorni quindi insomma una generazione potremmo dire però non è certamente un'ipotesi andare a dire che qui siamo con il dollaro cioè rispetto alle altre monete il dollaro è forte poi rispetto a bitcoin magari e alle possibilità che c'erano insomma con bitcoin eccetera magari eh ok però non è corretto andare a dire una cosa del genere quindi il concetto è se non si vuole proprio lasciare spazio al ad altre valute che non siano dollaro si vuole imporre il fatto che le cripto anche in defi debbano funzionare solo con un dollaro e fatevi due conti ok quindi lasceranno spazio alla possibilità di creare ehm qualcosa di alternativo sempre prezzato in dollaro magari se dietro c'è il dollaro come usd e usdc potrebbero dire mi sta bene ma se dietro se lo inventano gli fanno la bank run come a luna cioè ragazzi capite che il mercato cripto oggi è stato vicino a un billion di capitalizzazione tutto intero cioè non quota neanche come una multinazionale americana una sola l'intero mercato quindi se non vogliono che questa cosa avvenga capite bene il senso allora io un po' il dubbio me lo vorrei e anche il motivo perché sembra che TH inizi a vacillare in maniera un po' strana ci sono tante cose che dobbiamo andare a comprendere ragazzi e ci saranno i mesi successivi a venire che ci danno questa possibilità io la vedo così poi eh che il blockchain in generale il i pre to earn probabilmente tutto quello che il business collegato alla blockchain sia il futuro io ne sono convinto ragazzi però questo non è collegato alla non mi stanno i capelli oggi questo non è collegato alla token di riferimento ragazzi perché i token di riferimento del mercato cripto non sono rappresentanti del valore di un progetto e degli utili di un progetto sono dei token che noi abbiamo acquistato dando un valore in base anche alla fatto di finanziare queste innovazioni dargli spazio a loro stessi quindi bisogna comprendere che non c'è nessuna regola non è una stocks che vi dà diritto di voto eh tranne ok c'erano le DAO eh i token di che vi danno il diritto di voto però non vi danno gli utili del protocollo adesso li stanno facendo infatti io adoro molto quei token in linea ho già parlato però bisogna capire se resistono perché è la prima volta che affrontano una cosa del genere quindi io penso che ci sia tanto da riflettere ma la cosa più importante secondo me è che non ci sia un attacco politico se c'è un attacco politico non c'è scampo per niente se non è un attacco politico ne ne usciamo più forti di prima e meglio di prima perché quello che era successo nell'anno duemilaventuno ragazzi duemilaventidue con fesserie senza limiti inventare visto di tutto io in quest'anno ragazzi avete visto di tutto però insomma è normale che sia così ok anche nel nel duemila uno più o meno quando c'è la bolla di internet duemila poi scopriera duemila uno uscivano dot com come se fossero patatine e non c'era niente dentro ovviamente quattro cinque sono diventate le multinazionali che oggi conosciamo dopo vent'anni però le altre migliaia e migliaia sono totalmente sparite nel mondo ragazzi quindi questo è normale l'importante che sia attacco a a alla diciamo in generale un attacco politico al gritto va bene che a me non sembra soprattutto su bitcoin a me in america non è sembrato così anzi è proprio questo il mio dubbio io non mi aspettavo infatti una forza così violenta nei confronti dell'intero sistema e però uscito fuori che dai grafici poi ci mostrava quella roba e quindi siamo dovuti siamo dovuti adattare un po' a a tutto vabbè facciamo un'altra cosa allora prima di andare avanti andiamo e allora questa è una domanda interessante vi c'è un attacco senza le regolamentazioni ma non è che si gioca sempre pulito in questo mondo no e ragazzi si può attaccare un mercato anche in un altro modo io posso fare le regolamentazioni che prevedono voto politico anni di scrittura delle leggi cose per vietare poi il divieto la protesta la via di fuga trovata la legge fatto l'inganno e tutto il resto oppure posso trovare un modo di affossare un mercato e non renderlo più appetibile per nessuno e distruggerlo semplicemente dall'interno perché si autodistrugge soprattutto se un mercato è pieno di bug e come quello delle stable coin algoritmiche facilmente aggredibile ci metto due giorni come avete visto sull'una nessuno mi può dare responsabilità di niente è anche legale perché non c'è la regolamentazione non vado in voto in parlamento non faccio nulla e ragazzi parliamoci chiaro cioè adesso ci meravigliamo di una cosa del genere cioè facciamo le guerre non è che adesso penso che sia insomma no poi io non credo che sia così non credo capito però insomma dobbiamo guardare questa è una cosa da guardare questa è solo un'opinione una riflessione non è un dato ma abbiamo dati su queste cose ragazzi io non li ho eh se avessi dati cioè stavo diciamo con il presidente qui a fianco diciamo e a vedere queste cose va bene andiamo a vedere qualche graficuccio dai che altrimenti poi oggi non facciamo in tempo allora intanto 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 vi faccio vedere questo graficuccio che ancora una volta mi lascia titubante cioè oggi la dominance scende mi ha lasciato titubante ve lo dico ragazzi perché scusate perché in pratica e guardate che candela che sta facendo con questa weekly meno 4 la dominance di bitcoin e insomma non è cioè non è quello che ci aspettavamo dopo questa fase perché aveva invertito si è arrivata al primo target questo è vero adesso devo andare a chiudere anche un ciclo sottostante che adesso vi mostro anche se i cicli sulla dominance li dobbiamo valutare tanto e non quanto è un ciclo da ormai l'avete capito più o meno semestrale quindi 180 giorni che chiuderebbe intorno ai primi del mese di luglio quindi fra un mesetto quindi teoricamente il ciclo della dominance è a metà di questa struttura per poi teoricamente dovrebbe fare l'altra l'altra parte fino al prossimo anno perché questo ciclo annuale chiude l'anno prossimo nel 2023 quindi in teoria dovrebbe indicarci che bitcoin dovrebbe essere più forte fino al 2023 rispetto diciamo a alla alle altre cripto soprattutto ethereum in questo caso però e adesso questo ribasso è bello consistente non è che proprio poco poco andiamo a vedere il cambio ethereum e ha fatto un minimo rilevante questa è una candela di inversione ragazzi è una super hammer ed è una candela di inversione fatta molto bene perché lasciato ribassista non è collegabile alla close è chiaro oggi è semplicemente martedì ragazzi quindi parliamoci chiaro essendo martedì abbiamo tutto il tempo di annullare questa candela rifarne una però questa è una candela importante e rilevante non in termini di inversione ma di stop al movimento ribasso anche nei confronti di ethereum quindi ethereum respira rispetto a bitcoin ovviamente sapete bene che lo 0.055 era un super supporto infatti sta reggendo vedete nonostante lo sciacquone la settimana non è riuscita a scendere e ritorna più o meno allo stesso livello 0 0 55 come aria proprio perché questo è il livello rilevante ora nelle prossime settimane si gioca questa partita perché nel momento in cui andiamo a disegnare una verde così tutto dipende dalla prossima settimana in quanto se la prossima settimana questo grafico torna a breccare e a fare un'inversione del di questo tipo salendo probabilmente può tentare anche nel breve di fare questo tipo di atteggiamento ora la struttura del ciclo ethereum btc non è messa bene ve lo dico ragazzi quindi è messa malissimo in sostanza da questo punto è iniziato più o meno una specie di ciclo da 300 giorni che sta facendo questo fa cicli più o meno così è anche vero che dovevamo essere a metà ma siamo andati troppo oltre vi faccio vedere perché per me tirare giù un senestrale cioè un annuale scusate da 500 e 39 giorni è troppo anche se rialzista ma non lo vedo così mi sembra poco un eccesso quindi io vedo di più eh un'ipotesi che questo sia un movimento eh centrale di un ciclo ternario eh costruito in questo modo che unisce due annuali ed è anche il motivo per il quale sono estremamente eh preoccupato del fatto che anche il prossimo anno potremmo avere un bear market molto più lungo però dovremmo dovremmo un po' eh aspettare prima vediamo questa struttura ciclica se e come si conclude cioè quella che è iniziata qui ragazzi a settembre eh duemilaventuno vi faccio vedere la data ottobre duemilaventuno e questa struttura ciclica secondo me qui ha semplicemente fatto uno di questi movimenti così e ci manca l'ultimo ci manca l'ultimo poi mh se accorcia eh essendo che appunto io non uso la ciclica su questo tipo qui siamo a due trentotto ragazzi io una trentina di giorni ci vorrebbero quindi un altro mesetto secondo me qui eh lo fa quindi tutto sta nel comprendere questa cosa però vedete il livello di supporto ancora resistito questo lascia ben sperare anche perché eh vuol dire che il mercato ha trovato un supportino supportino che è esatto poi poi è stato esattamente coincidente con la parte bassa della barra di congestione di cui abbiamo parlato nel video eh di dell'altra settimana mi pare o di lunedì o dell'altra settimana cioè la zona eh qui interi interna adesso siamo di nuovo sul punto di equilibrio di questa fascia cioè uno tre cinquanta e mille il problema è sotto perché sotto i mille ragazzi si va giù pesante su ethereum eh il la struttura è assolutamente un'inversione di trend eh importante quindi non è una una semplice correzione questa è un'inversione di trend di eh medio lungo periodo perché esce fuori anche da una super barra di congestione notevole che ethereum ha fatto così come bitcoin tutti quanti hanno fatto questa barra è una barra di congestione che è diventata una barra di distribuzione alla Wyckoff ragazzi quindi questa è una distribuzione al Wyckoff con il centrale più alto e poi il crash con il break della parte bassa questo significa che questa figura è una figura di inversione di medio lungo periodo del trend perciò il trend in questione non è una correzione ma è un'inversione e questa cosa cambia radicalmente tutto perché se noi andiamo a parlare di inversione ragazzi di trend significa che può durare mesi anche due anni una cosa del genere se andiamo a parlare di correzione di un trend primario invece è una correzione che solitamente dura un pochino due tre mesi niente di che mentre questa è un'inversione di un trend primario non proprio il lunghissimo ma il medio lungo sì perché è ragazzi una una congestione con inversione non è la di che aveva fatto per esempio in questa zona qui che era sì una correzione però vedete com'è la struttura adesso vi faccio capire allora qui siamo molto simili però possiamo andare incontro vedete a una inversione che dura tanto però questa zona ragazzi è durata tutta la struttura così ma noi siamo in barra di congestione da qui questa volta quindi è molto lunga la barra di congestione rispetto a quello che erano nelle precedenti zone cioè in sostanza non è uguale questa cosa perché qui il rialzo non ci ha portato qui su e dopo siamo andati a scendere come il precedente bensì qui abbiamo proprio fatto una barra di congestione alla waikov che è un sistema uno schema di distribuzione qui la distribuzione non è mai avvenuta qui è semplicemente stato un'inversione di trend che veniva da una bolla di un mercato totalmente immaturo un'inversione bruttissima e attenzione quindi non è una questione legata all'entità del ribasso che qui è stato considerevole è il modo in cui lo fa ragazzi quindi la durata di questa barra di congestione è molto ampia un'inversione di questa barra di congestione spinge i mercati in un trend più lungo questo è il discorso rispetto alla di precedente che poi magari fa lo stesso meno 90 non cambia ok come ha fatto precedentemente però magari dura tanto questo è il un po il motivo sul quale diciamo stavo un po mettendo anche in questi in questi ultimi insomma periodi ragazzi ok quindi questa cosa va vista andiamo a vedere invece la questione di bitcoin se questo può essere definito diciamo un punto di inversione del mensile allora il mensile c'è come vedete molto vicino rispetto a a diciamo la sua scadenza naturale che doveva essere abbiamo fatto un minimo di ventimila e otto è un minimo rilevante assolutamente è il rimbalzo alla resistenza dei ventimila al supporto dei ventimila vecchia resistenza che aveva tenuto il mercato fermo dopo l'ultimo bull market a livello di tempo ci siamo sul mensile perché qui vedete un mensile particolare perché io avevo spostato al diciotto ma se faccio coincidere il mensile con il suo minimo vero che era il 12 di maggio come vedete siamo perfettamente coincidenti con la fine di un mese a 33 giorni quindi nulla vieta ragazzi al mercato di avere qualche giornata positiva il problema è che se siamo ancora come vi ho detto ieri nel precedente annuale si scende subito dopo qualche giorno di riposo perché semplicemente non c'è nessuna inversione in quanto ho iniziato un nuovo ciclo annuale in questo caso oppure non c'è niente da fare ragazzi niente da fare allora al momento come gestiamo queste cose andiamo a vedere dove possiamo arrivare eccetera e parliamo anche del discorso di Naltac andiamo a prendere Naltac che invece ieri nel video ne abbiamo parlato poco allora intanto andiamo a ingrandire anche quello che è un RSA estremamente modificato che è creato per disegnare dei cicli di Naltac visibili non mi interessano le aree attenzione non mi interessa la questione dell'area di per comprato e per venduto non è questo mi interessa la forma ciclica ragazzi e quindi ci dà un'idea 2016-2019 poi 2019 con lo spauracchio del 2020 però 2019-2022 comunque siamo sempre nei tre anni vedete ragazzi quindi cicli triennali rilevanti presenti e visibili anche sull'oscillatore creato solo vi ripeto per vedere le forme cicliche non per vedere il ho finito la barra del Mac allora non per vedere il l'ipercomprato iper venduto questo ci dà anche un'altra risposta siamo vicini a uno snodo rilevante per Naltac ma ci sta ragazzi mancherebbe che scende così per i prossimi anni a venire cioè siamo vicini probabilmente ad un minimo importante che dovrebbe esattamente avvenire come ci siamo detti un po' di tempo fa proprio nelle strutture di volatilità tra 32 e 50 lo so che è molto ampio però è questa ragazzi come si fanno questo tipo di previsione di lungo lungo insomma è ovvio che sia così quindi qui abbiamo 50 come area massima qui siamo a 32 io penso che un'eventuale fase di bassista profonda a chiudere questo ciclo annuale potrebbe arrivare massimo in questa zona intorno ai 10.000 9.000 qualcosa questa zona qua potrebbe essere appetibile per Naltac per chiudere i giochi io non vedo un Naltac che perde l'ottanta per cento come nell'ultima bolla della dot com perché adesso non è una dot com ve ne ho già parlato è una è un pilastro dell'intero pianeta quindi in questo momento io vedo Nasdaq sicuramente più in grado di sostenere meglio una perdita in termini percentuali dai massimi quindi si chiama drawdown dai massimi della curva del grafico al momento la vedo così ragazzi quindi secondo me un 50 per cento anche per una crisi del genere che assolutamente già prezza tutto quello che ci siamo detti perché è un ribasso sostenuto l'unico dubbio è sul fatto che siamo saliti tantissimo in maniera indiscriminata negli anni precedenti siccome era hanno regalato soldi praticamente i mercati classici salivano a prescindere questo è l'unico dubbio che potrebbe essere impattante perché nel momento in cui io devo anche considerare sì sì standard del pulso cinquecento stesso identico discorso sì certo diverso perché lo standard del pulso cinquecento teoricamente è meno volatile in quanto ha dentro delle stocks che sono essenzialmente molto più diversificati in termini settoriali quindi c'è una diversificazione settoriale tra standard del pulso cinquecento e Nasdaq cento molto diversa l'S&P 500 è molto più diversificato a livello settoriale quindi probabilmente alcuni settori all'interno dell'S&P 500 vanno bene mentre il Nasdaq è proprio tech anche se ormai sono big tech però è sempre tech quindi ha una diversificazione molto più leggera e molto più volatile sono cento stocks quindi non sono non è proprio paragonabile nello stesso identico modo potrebbe essere più profonda questa crisi solo nel momento in cui noi pensiamo che veramente gli anni precedenti siano stati un'esegirazione assurda e però ragazzi già un cinquante arriveremmo a ottomila e cinque di Nasdaq è un apocalisse cioè se Nasdaq arriva qui secondo me bitcoin non sta neanche sopra i diecimila doll cioè siamo a dodici mila doll cioè io non non penso una cosa del genere è vero che le banche se lo possono permettere perché guardate che hanno creato ragazzi guardate che cosa hanno creato questa follia totale che dal 2009 hanno creato con l'immissione di liquidità praticamente una macchinetta che dove la mettevi faceva soldi gratis però insomma ok considerate anche il fatto che adesso vi mostro il super megaciclo di Nasdaq adesso stiamo andando verso il ciclo in conclusione il prossimo marzo più o meno gennaio marzo quindi fine anno di circa ventuno anni è un ciclo abnorme di Nasdaq cento ed è anche molto rilevante e vi fa capire anche perché probabilmente questo ribasso è sostanzioso è sostanzioso per questo motivo è un ciclo di settennale i mercati amano i cicli di sette anni soprattutto quelli classici quindi ci sta questa cosa io non credo in ogni caso che scendere intorno a cifre rilevanti insomma mi sembra poi ci si può è preferibile probabilmente per questo tipo di mercati stare intorno ai livelli più tempo piuttosto che crollare a picco io la vedo così però andremo con i piedi per terra vi faccio vedere anche l'altro grafico che ieri abbiamo analizzato eh del eh della DeFi eh ragazzi allora DeFi non recupera come Ethereum in quindi a livello settimanale non dà segnali di grande importanza a meno sette comunque anche questa settimana eh segno che comunque il mercato è fortemente affossato in questo momento è eh da tanti motivi avete visto anche la questione Celsius eccetera quindi eh valutiamolo però qui non abbiamo qui siamo nella terra di nessuno sulla DeFi siamo in un momento in cui basta un niente una cresce un break di Bitcoin qui continua ad andare giù tutto quanto insomma eh è un trend ad ascensore di bassista non c'è nessun segnale rialzo eh nessun buy the dip non c'è assolutamente niente il primo supporto rilevante come vi dicevo ieri è intorno a la metà degli attuali valori quindi che significherebbe che anche Ethereum stesso dovrebbe scendere parecchio e e insieme dovrebbe tirarsi anche tutte le altre criptovalute che fanno parte di questa caratterizzazione e insomma mh da attenzionare ragazzi il ciclo comunque della DeFi va in conclusione naturale verso agosto settembre eh così come Ethereum eccetera questo è un grafico che noi stiamo guardando da novembre del duemila eh ventuno ragazzi eh finora ci ha dato grandissimi segnali continuiamo a seguirlo perché qualora dovesse iniziare poi successivamente un nuovo ciclo annuale potrebbe essere interessante andare a prendere dei progetti validi solo a loro ha senso solo allora ha senso andare a ragionare dei progetti validi perché contro trend non esiste nessun progetto valido che regge l'analisi fondamentale teorica che non è neanche corretta chiamare l'analisi fondamentale che si fa sui progetti che vi piacciono non vi piacciono a valore solo quando i mercati sono in in trend a rialzista non ha nessun valore nei mercati in trend a ribassista forse un minimo qualche ehm tokenomics creata in maniera corretta e qualche si diciamo ecosistema creato in maniera corretta può reggere un po' meglio ma sempre perde ragazzi quindi invece del 40 fa 32 questo qui ma non vi cambia niente termini di risultato finale quindi assolutamente eh trend is your friend nei settori cripto che non siano alt coin che non sia bitcoin e qualche alt coin di top e trend is your friend per sempre e ovunque non c'è nessun'altra soluzione per stare in un mercato del genere lo so che io vi tedio un po' con queste cosette ragazzi sarebbe bello dirvi il contrario ma non siamo ancora in quel momento poi fra qualche anno probabilmente sarà possibile eh avere un po' di atteggiamento diverso in questo caso questo tipo di mercato va affrontato solo seguendo il trend non c'è un'altra soluzione se invece inizia però l'annuale poi l'annuale è interessante andare a fare il cripto picking perché in trend a rialzo invece cambia lì potremmo ritornare a fare la famosa serie top seven cripto perché ragazzi perché in un frangente in cui magari il mercato va a recuperare qualcosina magari non fa niente di che magari fa un annuale ribassista speriamo di no magari fa una cosa del genere però potrebbe andare a recuperare un pezzettino e nel recuperare un pezzettino recupereranno molto di più i progetti di grande valore quindi solo lì e solo allora ha senso ragionare in questo modo insomma da questo punto di vista va bene allora vi mostro anche il grafico del gold e del nasdaq contro bitcoin perché volevo farvi vedere questa perdita di forza relativa rilevante e di bitcoin allora questo è bitcoin contro nasdaq quindi il breakout della famosa figura di continuazione del trend che è stata annullata era giusto ragazzi era giustissimo infatti ha breccato al ribasso e poi è sfracellato in termini di forza relativa rispetto a nattaq ancora una volta riprova che l'analisi tecnica ci prende e come quando si parla di queste cose 20 punti percentuali ragazzi la differenza tra il break proprio il segnale di break in teoria questo mini trend non è neanche iniziato perché se andiamo a ragionare su una figura di inversione di questo tipo in teoria proprio indica un'inversione fino alla fine del ciclo poi c'è anche da dire un'altra cosetta ragazzi è anche qui il ciclo annuale di nasdaq bitcoin bitcoin contro nasdaq è ribassista anche questo ed è ternario come lo vedete anche questo in conclusione va molto più in là intorno a settembre questo indica che in teoria bitcoin dovrebbe essere teoricamente più debole di nasdaq 100 fino ai prossimi tre mesi e questo è anche significativo proprio del fatto che le criptovalute in questo momento sono proprio sotto attacco ragazzi non è magari non è un attacco politico ma sicuramente è una fuga 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 perché non è semplicemente una correzione ma è una fuga dal mercato più o meno molto simile a questa qui andiamo a vedere anche un'altra interessantissima informazione per esempio andiamo a capire dove possiamo arrivare anche in base a nasdaq perché qui non siamo solo correlati a nasdaq qui stiamo andando peggio di nasdaq ragazzi che è molto diverso eh meno 84 per cento da eh nei confronti dell'indice top americano qui siamo in questo momento a meno 60 dagli attuali minimi quindi qualora eh si andasse a ripetere la storia come escursione in termini di volatilità potremmo arrivare qui e io non penso che sarà così ve lo dico eh perché in questo caso abbiamo avuto una burranna in maniera molto pronunciata in quest'altro caso il secondo la burranna non c'è stata perché è nata che ha accompagnato moltissimo ora cosa significa questo eh andare da meno 50 a meno 84 ragazzi significa che se nasdaq va a perdere un ulteriore venti per cento eh bitcoin perde il venti e più il venti cioè perde il triplo il quadruplo quindi è mh insomma un disastro quindi il discorso è che secondo me questa volta noi ci fermiamo prima e non andremo a meno 80 siamo già a meno 50 meno 60 eh io ci vedo un meno 75 ancora sul nasdaq però mh non andrei al di sotto di questo livello eh come struttura di target questo perché ragazzi perché io penso che bitcoin sia più maduro e riesca a reggere meglio ma sempre nell'ottica di stiamo facendo un bel market se siamo sotto attacco politico non ce n'è qua cresciamo proprio regolare in ogni caso ricordatevi il trend contro i mercati classici quindi in caso anche nasdaq stesso resta comunque molto forte al rialzo in termini di lunghissimo di lungo periodo perché vedete questo è un annuale che è comunque stato rialzista questo è l'annuale della bolla eh della bull run di bitcoin rialzista questo è un annuale a ribasso e che i precedenti erano tutti rialzisti quindi noi non abbiamo visto mai eh una cosa diversa perché gli anni precedenti praticamente tutto si saliva 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 quindi la questione è abbiamo fatto per la prima volta e stiamo facendo per la prima volta un annuale ribassista nei confronti di nasdaq ragazzi eh è la prima volta che bitcoin perde di più non è un bene rifugio non sta facendo questo non è uno star value non sto facendo questo non è anti inflazione non sto facendo questo eh dobbiamo lavorare di più dobbiamo lavorare meglio a fare in modo che questa tecnologia venga percepita eh come è forse tutta questa confusione creata proprio da token spazzatura e da follie nel tentativo di creare chissà cosa hanno anche impattato negativamente proprio sul vero valore del mercato delle cripto che è esattamente è bitcoin cioè un valore e per l'intero pianeta che possa consentire di conservare quella che è eh un'alternativa magari a loro ecco un'alternativa ad altre cose già esistenti ma forse è meglio giocare a volte sarebbe meglio giocare una partita per volta piuttosto che tentare di fare tre migliaia cose essere presi di punta e distruggere anche l'unica cosa per la quale si stava lottando veramente da tanto tempo allora io dico questa è la prima volta che si stiamo anche a un exit strategy in termini di tassi di interesse ci può stare un mercato del genere siamo ancora forti nei confronti dei mercati old ci può stare perché comunque è anche un discorso di assottiamento degli spazi di risalita quindi delle dei differenziali di volatilità però un po' io direi che è il caso che l'intero sistema cripto si faccia un qualche interrogativo invece di dare colpe a sempre a cosa a qualcuno forse bisognerebbe interrogarsi se è il caso di eh tirar meno scam in circolo e magari accettare anche qualche regolamentazione piuttosto che andare a mettere in pericolo eh una cosa per cui si combatte veramente da tanto tempo e che poi lasciatemelo dire però è l'unica cosa che effettivamente può essere utile magari a qualche stato e in questo momento lo è stato magari e a qualche stato per lottare per la supremazia e della loro moneta e tutto il resto perché il resto ragazzi del settore cripto e cioè non è che è impattato in questo momento nell'economia reale e andando a alzare ideali cioè non è che il protocollo di luna ha cambiato il mondo ragazzi non ha fatto niente ha fatto un disastro quindi il concetto è se si crea valore che sia Ethereum che sia Bitcoin è irrilevante dove lo si fa è sempre bello ed è sempre buono però il valore deve essere per le persone che stanno dietro quindi se noi andiamo ad agire su un qualcosa che poi l'unica cosa che fa è creare questi blocchi castelli su castelli di carta che crashano da soli e stiamo sperimentando mi sta bene perché sperimentare fa parte dell'uomo non potremmo mai innovare senza un fallimento come quello di luna quindi è giusto che ci sia però bisogna anche ricordarsi che questo non deve andare a attaccare e a intaccare un qualcosa che è sicuramente molto più importante come è l'approccio Bitcoin nel mondo ragazzi che sinceramente è più importante in questo momento che venga mantenuto quello poi il resto bisogna lavorarci su tanto 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 però non dobbiamo dimenticarci questa cosa quindi io rinnovo sempre il concetto che secondo me anche il settore cripto dovrebbe lavorare un po' alla coesione che la coesione non fa mai male invece delle sbruffonerie di questi vari soggetti va bene allora questo è il grafico contro che vi ho fatto vedere contro Nasdaq che ha questa particolarità la prima volta che si va a verificare e invece poi vi faccio vedere anche il grafico contro il gold perché è interessante in quanto l'ho visto anche l'altro giorno perché me l'ha fatto notare un iscritto in academy sono tutti bravi ragazzi in academy mi hanno dato due tre diritti anche loro stessi perché sono diventati ce ne sono alcuni utenti ovviamente sono molto bravi non tutti ragazzi non è possibile questo perché poi sapete dipende anche delle capacità personali solo dall'insegnante però mi hanno fatto notare anche questo spread gold btc interessante perché sta facendo questo ciclo a 1400 giorni ve l'ho mostrato anche nell'altro video ed è interessante perché forse è un ciclo che noi possiamo andare a monitorare per andare a comprendere anche la fase di bear market e fase di bull market perché se lo ragioniamo così possiamo anche immaginare semplicemente che questo ciclo gold contro bitcoin faccia la sua parte rialzista proprio durante il bear market e faccia la sua parte ribassista durante bull market se analizziamo la struttura ciclica di questi quattro anni perché sono 1400 giorni probabilmente avremo anche risposta al livello tempistico di quando questa fase di bear market finirà e andiamo per esempio a tirare giù già dei numeri per esempio la precedente fase è durata 400 giorni circa questa qui siamo da questo minimo e dall'inizio di questa nuova fase a 210 quindi in teoria ci serve febbraio 2023 per vedere la fine del bear market grosso ragazzi capite bene il significato di questa cosa 200 giorni ancora 150 di ribasso laterale ribassista no no c'è un commento importante da dare a questo tipo di informazione ma è molto significativa ragazzi questo addirittura se le cose vanno bene perché ragazzi perché io sto sempre ipotizzando che questo sia un ciclo che si mantenga perfettamente uguale al precedente che era fortemente ribassista non è detto che sia così perché se questo è un ciclo rialzista il suo massimo lo fa qui cioè lo fa nel 2024 2025 e fa così ragazzi quindi questo significherebbe un allungamento di un altro anno della fase del bear market questa cosa va valutata siamo nella prima volta che siamo in exit strategy c'è stata tanta confusione lottiamo vediamo stiamo attenti ma è questo il problema del famoso lungo periodo di cui vi ho parlato nei precedenti video so che sono una voce fuori coro so che sono una voce scomodissima quando dico queste cose sono anche molto grande non me ne frega un tubo se sono scomodo e sono sempre stato così ragazzi poi sono estremamente accogliente no le varie tante idee però mi fa piacere proprio che tutti quanti anche quelli che sono gli influenze dei formatori diciamo di questo mondo abbiano idee diverse ed è molto interessante perché proprio dall'insieme di queste che viene il valore quindi anche giusto dire che questo concetto di lungo periodo lo dovete interpretare come vi ho spiegato in quella live ragazzi il concetto di lungo periodo sul settore delle cripto è molto molto difficile da comprendere vi faccio un video su youtube e ve lo spiego fermo restando che spero che non mi prendano di mira gli haters vi spiego anche questa differenza però è importantissimo comprendere come dovete ragionare proprio nel lungo periodo così si ragiona nel lungo periodo andando a comprendere quelli che sono i diversi scenari questo è il modo giusto di ragionare sul lungo periodo non pensare che tutto sale sempre e abbiamo buone possibilità abbiamo visto il grafico con nasdaq che comunque è sempre rialzista ragazzi facciamo un annuale a ribasso mi sta bene perché siamo in una fase matura difficile eccetera siamo sempre in tre di rialzista però iniziamo a ragionare seriamente questo mercato noi iniziamo a fare sbruffonerie non guardiamo i dati ci inventiamo cose senza senso i grafici parlano ragazzi questa fase l'hanno descritta la debolezza di etirium era visibile non è per niente che ve l'ho detto due mesi fa non era una cosa strana si vedevano i grafici così si vedeva il problema di luna non si vedeva il fallimento di luna ma si vedeva che avesse perso forza relativa se non facevamo uno spreader short luna ragazzi e questo il discorso i grafici li fanno vedere le cose prima poi a volte sono farlocchi perché sono manipolati e quindi è difficile starci sopra questo avete tutto il mio la mia stima so che è difficile quindi diciamo non è io sto parlando per spiegarvi e fare e semplificare non è così va bene andiamo a tirare giù alcuni livelli invece per bitcoin finiamo poi con le vostre domande come sempre andiamo a tirare giù i livelli possibili di un'eventuale fase di ribasso brutta ve lo dico proprio brutta 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 di bitcoin e dove possiamo andare intanto vi prendo questo grafico che è il grafico mensile di bitcoin andiamo a ragionare sui mesi tanto non ci serve andare a ragionare su grafici più piccoli in questo caso perché non serve e proprio in generale guardate dove avevamo messo la nostra area di prezzo qualche settimana fa quando abbiamo guardato questo video quando vi ho detto che qualcuno di voi ha detto Mauro questo livello la 200 sarà il supporto e ho detto no secondo me lo break scende sotto così ha fatto è la stessa struttura del bear market degli anni precedenti quindi come vedete finora su questi price siamo dentro una struttura accettabile quindi è anche molto semplice la mia domanda se vi dovessi dire ragazzi cosa dobbiamo aspettarci in questo momento come soluzione migliore per bitcoin semplicemente che questi mesi successivi quindi luglio agosto e settembre vada a creare queste due candeline e tre queste tre candeline queste quattro anzi direi uno due tre quindi luglio agosto e settembre ottobre cioè dove mi va a fare uno giro creandomi una barretta di accumulazione se fa una cosa del genere ri replica alla perfezione quello che è successo qui e mi sta bene va bene quindi quest'area che avevamo indicato ragazzi l'avevamo indicata settimane fa ancora una volta c'è arrivato un po' presto io pensavo c'è arrivato a luglio c'è arrivato un po' presto però va bene così è accettabile il problema è che come abbiamo visto nei grafici precedenti non sembra sia finita qui anzi ci sono segnali che indicano molto peggio e è lì dobbiamo vedere intanto ci serve una candelina come questa qui e ci serve una candelina creata in questo modo quindi voi prendete questo video vi stampate questa foto e aspettate che in un mese il mercato vada a disegnare magari ci sono tanti pattern di inversione questo è molto bello questo qui ragazzi questa candelina piccolina senza volatilità con un piccolo ribassino sotto i precedenti poi che viene riassorbito che però fa un minimo inferiore al precedente questi sono tre minimi inferiori ragazzi non di shadow ma di close sì vi faccio vedere vedete questi sono tre minimi inferiori quindi scende ma non ce la fa risale scende ma non ce la fa risale ma chiude sempre sotto questa candelina qua voi ve la stampate quando la vedete iniziate a dire forse posso iniziare a pensare di fare un leggerissimo pack su bitcoin allora questo è il discord la prima vediamo candele del genere poi se ne parla di fare accumuli e tutto il resto allora quali sono invece i target se le cose si mettono malissimo e se neanche nel mese prossimo cioè luglio assistiamo un'altra red pesantissima come questa che è una red impressionante ragazzi io mi aspettavo che fosse questa la candelina perché se vedete la struttura di conformazione dentro questa shadow ok si vede che non sono al mio pc col mouse ragazzi allora dentro questa di questo mese di maggio io mi aspettavo che il mercato ci desse la possibilità di fare la famosa candelina piccolira che ritornava indietro invece no ha fatto uno sciacquone colossale creando una red totalmente red quindi bruttissima terza di fila di tre candele rosse quindi solitamente tre candele chiudono sempre un ciclo soprattutto se molto pronunciate però in pratica questa struttura qui potrebbe innescare diciamo questa spirale che vi dicevo prima e portarci ulteriormente sotto allora la successiva aria che non sia questa qui ragazzi che la terra di nessuno però badate bene è anche una terra che il mercato non vede da due anni quindi non è detto che il mercato debba crollare a forza sui supporti è probabile ma potrebbe anche sottostare per un tot di mesi disegnandolo nuovamente un nuovo supporto cioè in pratica non è detto che il mercato si deve poggiare i vecchi supporti che sono questi può anche crearlo qui un nuovo supporto questo è ovviamente meno probabile però si può fare qualora dovesse invece non tenere quest'aria a metà i 20.000 per intenderci questa è la successiva aria di supporto che va tra i 16.000 e gli 11.000 12.000 dollari che sarebbe una cosa terribile ragazzi qual è stato il precedente allora voi sapete la regola dei supporti la regola dei supporti è che precedentemente erano precedentemente erano delle resistenze importanti ora qual è la vera resistenza importante ragazzi negli anni che furono la vera resistenza importante negli anni che furono è circa 13.000 dollari perché a livello mensile è stato il livello di massimo per tanto tempo questo qui ragazzi questa lineetta rossa tratteggiata che vedete poi sotto questa lineetta il vero livello di resistenza e quindi ora supporto erano gli 11.000 e 6 quindi a esclusione di questa zona qui e di questo che è stato il vero massimo di bitcoin a livello mensile cioè 13.800 non c'è niente quindi i veri veri supporti sono questi due qui ragazzi uno e due se il mercato si ferma prima è perché va a creare nuovi supporti e lo può fare ve lo sto dicendo perché siamo sotto tantissimo già da queste due medie mobili siamo molto distanziati vi faccio vedere anche gli eccessi dell'ultimo bear market dalle mie due medie ha fatto un minimo ragazzi intorno a una struttura di praticamente ho fatto al contrario scusate allora ok da questa zona a questa è più o meno un 48 punti un 50 punti percettuali ora se io vado a mettermi qua più o meno quando le saranno queste qui siamo a 48 punti 47 punti qualcosina 51 potrebbe andare 18 però allora in termini di estensione di volatilità siamo più o meno nella stessa estensione di volatilità del precedente bear market non dai massimi ma di volatilità perché dai massimi non ci siamo perché non abbiamo mai fatta la burrana quindi andare a ragionare perdiamo l'ottanta dai massimi non è la stessa cosa in questo caso i livelli di supporto da tenere in considerazione sono questo 18 che vi ho detto 19 18 perché non è un livello di supporto precedente ma è un livello che potrebbe creare come supporto se puoi creare il 20 che ha fatto adesso meglio ancora ragazzi però insomma è poco probabile e poi ci sono quelli veri di supporto che sono 13 e 8 e 11 e qualcosa quindi quell'aria lì ragazzi gli altri non esistono non sono livelli quindi i livelli storici di supporto sono quelli là livelli tecnici di supporto sono i 18 mila e qualcosa che sono un'aria ovviamente consideratela come aria secondo me 20 mila e qualcosa come ha fatto oggi non ci sta ancora in quel range lì è un po' troppo alto se era 19 e qualcosa ci stava come range però questi sono i livelli di supporto da tenere fortemente sotto attenzione nei prossimi nei prossimi settimane magari l'annuale chiude lì a breve o lo fa nel mese di luglio di luglio che dovrebbe essere diciamo la parte finale va bene allora ragazzi detto questo super live anche oggi stracolma di contenuti incredibili adesso mi fate qualche domandina vostra è peggio di un film horror allora è peggio di un film horror dai allora non è un film horror ragazzi questi sono i dati statistici allora quando si vanno a ragionare i dati quando vi dicevo prima dobbiamo partire dall'alto dobbiamo raggiungere 52 invece abbiamo fatto 49 dobbiamo raggiungere i 34 abbiamo fatto 31 le cose si mettono male perché poi scendiamo troppo in profondità e troppo in profondità significa quello che avete visto è quindi ma ora è già scappato nel bunker che la cantina sì la rega la cantina cioè vabbè sono nel solito studio oggi e quindi sì sono già scappato in versione bunker va bene allora dipende dalle prospettive che si è chi si è perso i prezzi vecchi sempre che sia un mercato che abbia prospettive sì allora sicuramente anche questo c'è qualcuno che non entro adesso io ho un punto di ingresso nuovo anche lì io non la vedo tanto così ragazzi perché il mercato se arriva a fare veramente danni se arriva a trecimila è perché veramente è un disastro quindi sì poi dobbiamo avere il coraggio magari di mettere mano lì ragazzi ma non è che noi sappiamo che quello sia il punto di minimo quindi quei livelli sono supporti attenzione a confondere un supporto come il minimo perché non è una cioè nessuno sa il minimo qual è il supporto è un supporto cioè è un punto di forza del mercato di appoggio ma il minimo lo sa solo il mercato è solo il futuro quindi noi non voi non dovete mai ragionare neanche a prendere il minimo perché non ha senso perciò bisogna ragionare a leggere il mercato perché poi noi dobbiamo aspettare l'inversione e tentare le sorti appunto andando a fare queste cose le elezioni mi determinano gli stati uniti posso influenzare le quotazioni dei mercati e anche i bitcoin sì perché potrebbero mettere un freno a certi atteggiamenti soprattutto se la controparte riprende potere con dei voti importanti questo significa che c'è malcontento nei confronti di questa politica e quindi ci sarà una chiamata alla fed per dire wow wow alla napoletana non stare un po' troppo stretta però probabilmente molti diranno l'inflazione più importante e quindi non ci sarà diciamo tanta questione politica comunque le mid term si possono influenzare Mauro con i grandi volumi che abbiamo avuto non abbiamo tenuto comunque abbastanza visto che le altre volte eravamo su meno tanto pandemia maggio non ho capito la domanda però non so ecco specificala meglio ieri ho visto rei nella live graciale ciao ieri abbiamo fatto una live ragazzi c'era anche un'altra analista che sta in academy da noi rei e a un certo punto è entrato abbiamo fatto proprio i fuochi d'artificio bellissimo abbiamo detto delle cose rilevanti molto rilevanti insomma e insomma sì è glaciale hai ragione ciao Mauro per fare trading in tre day media di esponenziale 7 25 con tf un'ora possono essere valide perché 25 se tf un'ora 24 vabbè 25 non fa la differenza la 7 sono le ultime sette ore secondo me per fare trading in tre day non va bene per fare trading in tre day non va bene nemmeno il grafico orario perché sei troppo avanti le cripto sono velocissimi un'ora grafico in trading in tre day non va bene devi usare 15 minuti 45 minuti massimo e mistare entrambi i i due grafici quindi quello da 15 per fare operatività vera e quello da 45 per avere dei filtri e maggior sicurezza negli ingressi nelle dip e nelle strategie che vai a comporre semplicemente le medie nella attività di trading in tre day scorta tre totalmente perché se pensi di poter creare strategie profittevoli con due medie in tra day sei fuori dal mondo perché non funziona così il trading in tra day è più difficile di tutti e ha bisogno di molta più esperienza money management in primis e indicatori di volatilità va benissimo le medie pure però attento perché devi saper molto gestire le posizioni quindi ha molto più valore però io ho due chicche te le ho date a parte le medie ho dato le chicche su sul time frame che secondo me un'ora non va bene ovviamente se cambi time frame devi cambiare anche le medie perché se cambi time frame e le medie con i periodi che hai messo non vanno bene perché c'è una coerenza sottostante tra quello che stai facendo sul time frame e quelli che sono i periodi di settaggio dei tuoi indicatori questo qui è proprio l'abc insomma se sei corsista o sei iscritto in academy scrivimi nei messaggi privati che ti spiego insomma di più o ti vai a rileggere a rivedere quella lezione del corso capito comunque fai caso a queste cose qui ok ciao Gianluca sì certo che è recuperabile è pubblicato in chat live c'è il link vanno a vedere allora facci vedere qualcuna di queste live hanno i poveri barbone ragazzi ma io comunque sul canale youtube dico tantissime cose l'ultima volta ho parlato con un utente che è uscito dall'academy e mi diceva mauro non mi serve non mi trovo e bla 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 e io chiedo se però feedback e dico ma perché come mai voglio migliorare le cose c'è sempre da migliorare nella vita allora mi diceva non trovo la differenza con quello che hai di sui tuoi in realtà c'è un mondo differenza ragazzi perché lì proprio operiamo proprio e ci sono tutte le mie posizioni quando esco quando entro in tempo reale quindi la differenza è abnorme perché è chiaro che dire una cosa o il giorno in cui la fai e dirla una settimana dopo cambia il mondo però io sono molto questo significa sono molto espansivo anche su youtube vi assicuro che a volte porto anche l'academy gli dico ragazzi guardate il video su youtube perché ne parlo lì di questa cosa quindi non è che mi voglio tenere le cose che è impossibile dovremmo stare due ore a fare quella cosa lì e poi toccare argomenti anche che non ha il caso magari su youtube insomma non sono per un grande pubblico questo è domani cosa succede dopo che parlerà alla fed secondo me facciamo un buy the news domani e parte il nuovo mensile e l'ho sparata lì ora se non è così eh tac oppure facciamo il minimo no capito va bene allora visto i volumi importanti abbiamo retto meglio delle altre due volte che abbiamo raggiunto questi volumi dove abbiamo fatto meno trenta ma quali sono queste altre due volte non riesco non ti seguo ma riesco a quali altre due volte abbiamo retto meglio eh allora eh ok che ha fatto chip ragazzi non l'ho visto eh grafico menzie di etinum sempre quello di una shitcoin eh beh eh etinum soffre ragazzi allora su etinum magari ne parliamo fra qualche giorno io a Bologna eh scusa da Roma ho detto a tutti quelli che venivano a parlare con me a tutti che non aveva senso stare su etinum e io ho chiuso tutto mesi prima eh mi sono rimaste solo quelli che mi hanno bloccato quelli della DeFi ovviamente ennesima dimostrazione di come questo mercato sia terrificante perché mi hanno bloccato loccato i miei eth pochi per fortuna però sono loccati e mi dovevano sbloccare dopo x giorni fesserie su fesserie per non aver avuto niente perché il rendimento che mi hanno dato è una barzelletta in quanto me l'hanno dato nel loro token che è diventata spazzatura quindi ragazzi immaginate un poco eh da investitore sono delle porcherie senza limiti queste cose qui ma al di là di questo ehm ok gli diamo spazio diamo spazio ai ragazzi che lavorano gli informatici che hanno i protocolli di lavorare e tutto il resto però si devono anche rendere conto che non sanno fare niente quindi c'è capito al di là della programmazione esiste anche poi creare del valore per le persone se non riescono a farlo quindi eth è una questione è in forte crisi ragazzi proprio perché non ha delle strutture che lo reggono contro bitcoin in questo momento però vedete già la dominanza oggi che perde il 4% che si è ristabilita è significativa perché vuol dire che comunque non è che adesso siamo in una disastro totale certo siamo arrivati al al supporto 0.055 Ethereum BTC quindi ora c'è da capire fa l'ultima ondata perché se fa l'ultima ondata sfracella totalmente ragazzi scordatevi che Ethereum resta dov'è se fa un'ultima ondata secondo me un meno 50 non ce lo toglie nessuno lì eh e comunque ne parliamo poi magari andiamo a vedere vi ho fatto vedere oggi i tipi di bitcoin magari vediamo anche un tipi di Ethereum qualora dovesse andare storto un po' di cosette e ne vediamo meglio va bene comunque Mauro per le live academy c'è sempre Vimeo Vimeo nel youtube escile e le live sì è Vimeo è vero sì eh ok eh e TH sembrano shit perché è una shit come questo ovviamente sono ehm pensieri che non riguardano il grafico io non sono favorevole al P al post questa è ragione però è anche vero che forse per quel tipo di business e di mondo che si vuole creare il proof of stake è un po' meglio però ragazzi c'è anche da dire e io l'ho chiesto anche a persone magari più brave di me a livello informatico eccetera il problema di Ethereum è che è copiabile allora il proof of stake è copiabile facilmente copiabile quindi è una cosa che secondo me perde valore una cosa copiabile perde valore però è vero che anche loro hanno creato questa nuova struttura iper deflattiva cioè che no che che non inflazionava più il token vediamo bisogna capire il mercato come la prende ragazzi questo è adesso parlare così è solo fare opinioni e gossip perché al momento il mercato lo prende male però non è che è arrivato il merge non è che è stato fatto tutto quello che deve essere fatto poi bisogna farlo metterlo in atto aspettare qualche mese e capire come va se va funziona crea valore è figo non è figo anche quando lui allora cambia tutto c'è bisogna aspettare e questo è va bene ok allora c'è il pagamento di luna no grazie tienitela tu luna ok va bene non l'ho mai avuta neanche quando valeva oro figuriamoci adesso va bene ciao mauro i long su btc stanno aumentando in maniera considerevole sì perché c'è stato un sell off totale per cui intervengono quelle che sono le balene e gli exchange si comprano le cripto questo è quindi quando vedi questi dati anche qui bisogna comprendere quello che succede col sell off pesante che c'è stato i exchange comprano le le cripto che vengono vendute e quindi long aumentano il problema è che devono aumentare gli short perché gli short sono benzina per il long nel momento in cui tu hai tanti short possono essere liquidati e se gli short vengono liquidati pam spac subito perché vanno in stop e a me non piace questa storia di dei btc troppo in long perché è semplicemente il fatto che hanno mollato agli exchange io la vedo così poi bisogna analizzare però è fatto così il vero il fatto delle inefficienze di prezzo che il mercato va a riprendere come è certo che va a riprendere la prossima in zona 18 19 sì ma le inefficienze tu intendi dei gap di prezzo perché sui gap c'è un discorsetto da andare a fare sulle inefficienze sì c'è tanta discorso però bisogna capire bene no decentralizzazione no party troppi pochi nodi questo è sicuramente troppo inaccessibile c'è tanto da dire sui dirimo ragazzi questo è vero quando fai un corso full immersion live in presenza ciao Gianluca intendi una specie di corso come il precedente che eravamo in live webinar perché è appena uscito il nuovo che è una figata pazzesca ho avuto delle recensioni di utenti che hanno fatto anche il vecchio mi hanno detto che il nuovo è mille volte meglio del vecchio è ovvio che io non mi risparmio mai ragazzi quindi c'è che serve farlo in live va bene quello lì allora facendo i serie th di solito ci dà conferma della partenza dei cicli anche su btc sì ma arriva dopo oggi sta facendo un hammer nonostante per me btc e mensile sia partito il 27 maggio rialzo non lo scuderei ok sta facendo un hammer però ti ripeto solitamente ethereum finisce dopo cicli non prima quindi è per questo dubbio oggi ce l'ho insomma mi rimane dove si guardano le positioni anche short su li trovi anche su trading view i grafici in questione li puoi trovare allora sì sono un cartello questi qui si sa ma non è una novità che metamask fa parte sempre di ethereum ma è ovvio che sia così quelli sono progetti ragazzi le criptovalute sono progetti cioè quando si parla di centralizzazione decentralizzazione delle cripto si parla dei validatori e di come viene creata la blockchain ma non di come vengono prese le decisioni va bene a parte le data che in quel caso ha senso parlare di una decentralizzazione però non è che lì abbiamo la stessa decentralizzazione presente su bitcoin cioè sono sempre delle persone che sono dietro non è che non esiste nessuno io ero in short su btc dal 5 maggio ho venduto proprio ieri non male vittorio ha fatto un grande short andrea conferma il corso 2.0 ciao andrea allora sei stato tu allora uno delle varie recensioni sta aspettando una tua intervista a montemagno come dobbiamo fare a convincerti lo so monti ieri ho fatto però un bel video su su btc anche lui ci sta dando tanto sulle cripto è entrato anche lui in un momento no bruttissimo del cato questo bear market nelle cripto anche con gli nft insomma ciao mauro la chiusura annuale meglio entrare con le proprie posizioni in spot o meglio entrare facendo trading allora il mio ragionamento si basa con lo stop loss so già quanto vado a perdere allora entrare sulla chiusura di un ciclo annuale secondo me è per un orizzonte temporale medio lungo medio lungo intendo almeno otto mesi un anno se tu fai una cosa del genere vai in spot non vai a fare trading il trading è sempre trading fai perché tu comunque la posizione che vai ad assumere su un ciclo è un'operazione di trading ragazzi sempre trading è però è lunga allora è l'orizzonte che ti definisce se sei un trader così come la la vuole la la dicitura oppure un investitore se sei un investitore e sulle cripto intanto ragazzi l'investitore doc stile Warren Buffett non esiste perché le cripto non danno i dividendi quindi fin tanto che questa cosa sarà così l'investitore vabbè lo ci siamo inventati noi è colui che crede che bitcoin o qualche progetto cripto abbia un valore nel futuro però ci siamo inventati noi questa dicitura ma l'investitore classico crede in un progetto aziendale che dia dei dividendi insomma va bene che siano distribuito non distribuiti ma comunque dividendi nell'ambito invece di quando tu vai a fare un'operazione di trading fai l'operazione di trading perché entri in un momento ed esci in un altro ora se questo momento è molto lungo sei un investitore se questo momento è molto corto nella dicitura standard ti definiscono trader va bene quindi se fai un'operazione di una settimana sei trader se fai un'operazione di sei mesi sei un investitore diciamo che è così ma sempre un'operazione fai sempre un trade fai ora il concetto è alla chiusura di un annuale se vuoi tradare un annuale fai l'investitore cioè fai un'operazione che abbia senso per i prossimi tre mesi sei mesi nel momento in cui invece tu vuoi chiudere poi quella posizione e a distanza di una settimana sei un più trader io non mi do una definizione io sono un trader e investitore cioè sono entrambe le cose sicuramente sono un investitore ogni tanto anche trader cioè questo è il discorso perché se il trading mi serve per pararmi le chiappe scusatemi il termine io lo uso perché non devo usare una cosa che so fare ragazzi qual è il senso di questa follia totale cioè me lo spiegate cioè per questo il discorso se il trading è molto più prudenziale dell'investimento old nel momento in cui io sono old becco schiafi in faccia dalla mattina alla sera in un bear market allora uso il mio trading per sopperire a questo e proteggermi tutto qui quindi una posizione in old magari la mantengo ma non la mantengo tutta ne mantengo il 20 per cento il 30 per cento poi con il resto faccio una strategia di edge mi proteggo è ovvio che si vince così sui mercati che pensate di vincere non facendo niente è ovvio che non è così io alla fine del bear market arriverò ad avere il triplo il quadruplo rispetto a un holder e al prossimo alla prossima bull se avverrà sarò molto più forte se invece la bull non avverrà io mi sarò salvato questo è il discorso allora trading investing non è una dicotomia è una cosa che vanno a progetto insieme e cioè proprio sono uguali e la stessa cosa vista da punti di vista diverse quindi non cambia niente bisogna essere trader nella per essere investito investitori punto ok quindi se non sapete fare trading investimento non lo sapete fare di certo perché è più difficile quindi è solo che non lo capite lo capite poi nel bear market perché in un bull run oppure in quello che abbiamo visto nei mercati old cioè 15 anni di salite cioè tutti fanno gli investitori perché semplicemente facilissimo ragazzi premette due bottoni e avete vinto nel bear market gli investitori non esistono più perché vengono spazzati via se non sono dei trader questo è il concetto se non sanno stare sui mercati vengono spazzati via con la neve totalmente e si azzera ogni cosa perché poi interviene il problema emotivo eccetera quindi i trader sono più in grado di gestire queste fasi e quindi bisogna essere investitori nel bull market trader nel bear market no questo è così allora mauro nel corso 3.0 parlerai ormai da banana di mercato ma questo 3.0 non lo faccio semplicemente non lo voglio proprio fare io penso che il 2 basti per tutti quanti voi per dirvi queste cose impostarvi mentalmente ma ha senso prendere per buona una ciclica così lontana quando btc stava a 3k e non c'era una pandemia che era infezione di gestione e drag e buy non ho capito la domanda non l'ho capita comunque la ciclica quando btc stava a 3k indicava la partenza del nuovo ciclo annuale e così è stato poi la partenza di quel ciclo annuale è diventata una bull run nessuno sapeva che fosse una bull run ma i segnali del breakout famoso dei 10 11.000 quando io mi sono girato allo schermo di quella live di quel video ho detto siamo il trend di azista di lungo periodo siamo tornati long c'erano non è che non c'erano poi è andata bene poteva andare male è ovvio che così ma i segnali c'erano quindi non è che a noi ci interessa se si trasforma in un bel run cioè non è che non è che la ciclica deve prevedere il futuro è un segnale di tempo ragazzi è il segnale di tempo come vedete voi sta dipingendo questo mercato da quattro anni in questa parte dandoci dei dettagli perfetti sui mercati che ha un valore inestimabile su un mercato come quello delle cripto questo è secondo me il mio punto di vista mauro devo ribilanciare il mio puoi ripetere spiacente non riesco a sentirti bene niente siri ragazzi continuano a parlare da sola allora mauro devo ribilanciare il mio portafoglio devo diminuire la quota alt diminuirla adesso oh mio dio ho già abbastanza percentuale di simple coin ha senso convertire altcoin direttamente in btc segui il trend altcoin e btc è ovvio che sei fuori tempo proprio di gran lunga dovevi farlo mesi fa mettiti il grafico delle tue altcoin contro bitcoin e segui quel grafico lì quando inverte se invertirà ritorni magari nella tua altcoin se no ti tieni in btc allora vediamo così maurice lo chiediamo ehi siri dammi un consiglio finanziario buonasera come posso aiutarti niente niente maurice non lo fa neanche siri neanche siri non sono consigli finanziari va bene ragazzi allora abbiamo chiuso un'ora e mezza di live siamo oltre i tempi io stasera al mercato sono io so stare io starei sul mercato solo per la ciclica è semplicemente meravigliosa vero difficile però da comprendere veramente perché scade nella fantasia dei maghi no e sembra una previsione quando sembra una previsione state sbagliando cioè nel senso magia state sbagliando e deve essere applicata bene mauro volevo condividere con te il mio pensiero penso che btc nel medio periodo arriverà a 10.000 per poi ripartire fortemente euro tu cosa ne pensi 10.000 euro io seguo il trend mi dispiace ma continuo a rispondere nello stesso modo non mi interessa dove arriva ti dico francamente ci sono i livelli di supporto 10.000 non era tra questi se è molto più in basso se arriva a 10.000 ne prenderemo atto sicuramente sarà il più grande fallimento delle cripto mai visto e il più grande bear market mai visto tutto può succedere ma io seguo il trend perché questo è un mercato che appunto tutto può succedere è inutile cercare di anticipare delle cose che sono a questo punto poi la palla di vetro con la magia perché dipende da tanti fattori siccome tutti questi fattori tutti queste variabili noi non riusciamo in nessun modo a coniugarle insieme non ci riesce nemmeno il computer più potente del mondo altrimenti non avremo problemi ragazzi allora a quel punto bisognerà andare a seguire il trend seguire il trend è la soluzione per questo mercato va bene allora ragazzi io vi ringrazio e allora Dario dici 10 libri 10 libri che consigli sul training mindset 10 perché quelli che hai consigliato li ho già finiti ciao Dario scrivimi in academy ne parliamo altri 10 lo so adesso poi le vediamo insieme va bene allora fare fare un video di cosa fare in caso di due annuali in bear market sì ne parliamo nei prossimi nei prossimi mesi facciamo cioè vediamo che succede poi ne parliamo comunque assolutamente sì grazie Vittorio top siamo sulla media a quattro anni per ora va bene così se ci gira intorno ok se va giù 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 siamo fregati è esattamente questo il senso di quello che ci siamo detti detto in parole molto povere ragazzi ma proprio proprio così allora fino a quando siamo a sti livelli ok noi dopo siamo fregati va bene ragazzi allora ciao a tutti e ci rivediamo nel prossimo nel prossimo video la prossima live forza bitcoin come sempre vediamo se esiste e nei prossimi giorni vediamo che succede mi raccomando fate forti resistete riducete la volatilità come sempre seguite il tre ciao 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 ciao